E' sabato 22 ottobre, siamo molto felici di annunciare che il presidio di associazione di idee è pensato e organizzato per la realizzazione della somma di 420 euro da destinarsi all'adozione di uno degli orsi salvati da Animal Asia Foundation, gli orsi della luna. Questa somma è stata raggiunta in poche ore, grazie al lavoro che abbiamo svolto noi oggi qui a Brosseto e al lavoro che è stato svolto dagli amici di Rio Torto. Quindi continuiamo con il nostro presidio perché siamo impegnati per la giornata, comunque siamo molto elettrici e soddisfatti del risultato, il nostro presidio continua a suscitare un discreto interesse nei passanti. Siamo su Corso Carbucci e a questo ora comincia ad essere particolarmente affollato. Ecco una giovane passante, totalmente assorbita dalla visione del video che stiamo sovrittando sulla vicenda degli orsi della luna. Nei prossimi giorni saremo nella posizione di poter fare il pagamento a Animal Asia Italia e quindi procedere e finalizzare il passaggio che è necessario per l'adozione di un orso. sarà l'orso adottato dalla città di Brosseto e dalla cittadina di Rio Torto, i quali cittadini, i quali abitanti hanno contribuito in maniera determinante per il raggiungimento dell'obiettivo che ci eravamo posti, cioè 420 euro necessari per adottare uno di questi animali. Questa è la mostra che abbiamo all'ospito oggi. Abbiamo dovuto riposizionare in basso a causa del vento.